Ecco perché di Bibbiano, 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 il cortesiano, ecco perché di Bibbiano. Vi prego, vi prego di sedervi, vi prego di far continuare il dibattito, di far continuare il dibattito. Io le chiedo di Bibbiano, lei sa bene che cosa è successo a Bibbiano? No, 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 per favore, si rimetta la maglia sopra, per favore, non mi costringa, non ci sono esibizioni che siano ammissibili in quest'aula, la seduta è sospesa. Con cui voi dovevate aprire l'istituzione, invece vi siete asserragliati dentro, vi siete blindati dentro, abbiamo il tonno perché l'appetito vi è mangiando, in questo caso anche l'appetito del potere, abbiamo la colla che vi tiene ben fermi sulle vostre poltrone del vero comune denominatore di questa purpurì di maggioranza e infine questo, lo scotch, che è l'unico strumento così fragile che tiene insieme questi due partiti e questa maggioranza. Però sappiamo tutti bene che le cose fragili prima o poi si rompono. Grazie. Spiegherete con calma nelle prossime settimane, nelle prossime mesi, spiegherete al paese, visto che è locante e dedicata a questo concetto, forse ci sia invitoso in tutti i subitani, ripetiti, volta faccia, diciamo, stanno in buone settimane. Grazie. 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 Signora Presidente, facciamo togliere i cartelli.